Qui abbiamo la realtà virtuale che è uno strumento che sta prendendo sempre più piede soprattutto nel mondo dell'edilizia e nel mondo in particolare della visualizzazione delle problematiche nell'edilizia perché molto spesso succede che ingegneri in particolare per cercare di fare revisioni, di gestire meglio il progetto sotto diversi punti di vista cerchino di fare delle revisioni congiunte del progetto tutti insieme in un unico ambiente virtuale quindi condividendo uno stesso ambiente, una stessa piattaforma, uno stesso ambiente virtuale in cui si può condividere il progetto e vedere insieme quali possono essere i problemi legati alla progettazione architettonica alla progettazione ingegneristica e quindi tutti i vari commenti che si possono fare annotazioni che si possono fare per migliorare il progetto